Anticipazioni Beautiful. Venerdì 16 ottobre 2020. Hop ribadisce l'ottimo lavoro fatto da Steffi nei primi mesi di vita con Beth. E' una bambina fantastica. Arrivato Justin, Liam afferma che c'è anche il matrimonio di Hop e Thomas da annullare, mentre Rija, a casa con sua moglie, continua a mettersi in contatto con Thomas, ma è tutto inutile. Lo stilista crede che prima o poi il figlio si rifà vivo per riprendere il discorso interrotto con Hop, ma Brooke stizzita afferma che ciò non accadrà mai, in quanto adesso sua figlia sta con Liam. Thomas l'ha sposata con inganno e questo matrimonio è solo da annullare. Sanchez bussa alla porta interrompendo la loro discussione. Afferma di essere in cerca di Thomas, il quale deve essere interrogato il prima possibile per la morte di Emma. Brooke e Rija specificano che il ragazzo è sparito nel nulla e che stanno tentando di mettersi in contatto con lui. Per i detectivi è importante che salti fuori quanto prima. Rija è scioccato quando scopre che Xander è stato incommissariato e che ha portato delle prove che incolperebbero il giovane stilista. L'uomo non può credere ad una cosa del genere, non ha mai asserito che suo figlio non abbia dei problemi, ma adesso sta ostacolando veramente troppo. Non è un assassino, non ha provocato l'incidente mortale di Emma e presto lo dimostrerà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.